Mi manca la metropolitana, è una delle poche cose che mi manca vivendo qui a Cagliari dove non c'è stazione della metropolitana, quindi non ci sono nemmeno vagoni della metropolitana che scendono sottoterra. Perché la metropolitana? Perché è uno di quei non luoghi, spazi liminali che non stanno né qua né là, dove soprattutto nelle grandi città, per antonomasia le metropolitane esistono solo nelle grandi città, e lì succede sempre qualcosa. C'è una grande massa di umanità annoiata che è semplicemente lì in attesa, in attesa del treno. E sono spazi magici perché lì un sacco di cose possono succedere, non solo ma soprattutto quando si parla di stazioni della metropolitana in Europa, quindi molto antiche, c'è anche una stratificazione storica di vecchie stazioni, delle stazioni rimodernate, di quelle invece nuove fiammanti appena costruite. Una di queste stazioni storiche chiuse era in effetti non una, ma diverse stazioni a Berlino Est. Prima che cadesse il muro, la metropolitana di Berlino Ovest attraversava Berlino Est senza però fermarsi, e passava attraverso stazioni fantasma che erano state chiuse perché erano all'interno di Berlino Est, quindi le persone di Berlino Est non potevano sicuramente utilizzarle perché le avrebbero condotte a Berlino Ovest. Però le persone che abitavano a Berlino Ovest le attraversavano con il treno della metropolitana a Sotterraneo, che però naturalmente non si fermava, ma andava a velocità fortissima appunto perché non aveva bisogno di fermarsi. Però nonostante andasse molto veloce il treno, guardando dal finestrino, si riusciva comunque a vedere scritte sui muri, cabine polverose, sedili e quant'altro. Sì, ogni tanto mi tornano in mente queste immagini e un po' queste immagini mi mancano perché ripeto, a Cagliari non c'è metropolitana ma nemmeno si potrebbe costruire anche volendo perché ci sono troppe stratificazioni al di sotto della pavimentazione stradale, quindi se iniziassero a scavare oggi domani troverebbero una strada romana o i reperti punici, fenici, noragici e quindi si chiuderebbe tutto e sarebbe una delle grandi incompiute. Però sì, mi tornano in mente ogni tanto questi sprazzi di città europee e questo vuol dire che mi mancano i viaggi e che devo sbrigarmi a fare un viaggio fuori dall'Italia perché ho aspettato anche troppo.